Calma, calma No, 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 no! Calma! Calma! Non manda niente! Non lo stiamo minacciando! Diamo farlo! Calma! Vi facciamo parlare con il responsabile! Dovete stare a casa! Allora, vi facciamo parlare con il responsabile! Allora, non vedevi aspettare il nostro intero! Noi dovevamo stare nero noi all'estero. Siamo a stare di una setta, ma ci siamo a stare adesso. Ha fatto col signore lì, che era ieri, che era ieri, che era ieri. E ti sto chiedendo, faccio malattie. Mi sto chiedendo, mi piacere. Adesso, parlo a tutti. E' il quadro di buono. La tragittà a tutti. No. E tu non mi dò, è bello. E si è chiede questa calma. E tu non mi dò. Calmatevi. Tutti qua, dai! Tutti qua, dai! Tutti qua, dai! Tutti qua, dai! Tutti qua, vari alzate! Alzate in mano! Andiamo le mani! Calma le mani! Dammi le mani! Allora, signori, mancenete la distanza! Oh, vari alzate! Tutti qua! Qua! Non siete pauri! Abbiamo avuto la massima collaborazione! Manzate le mani! Era una cannot resistance. Amr mit gli Bah похожi! Vari alzate! Okammer con il coroang! Puglia l'amico attra! Dovretti qua, Mauro! Nasi l'amico! Nasi ciao! Personala,朝 dice arrivo! In questa situazione Allora lasciateci stare e fateci camminare perché se fino adesso non si risolva la cosa, noi dobbiamo continuare, perché a casa noi c'è un disagio che lo stai arrivando, è una macchina ancora a casa, perché li sei convinti, non siete freddi. Grazie